Assessore, grandi passi verso la realizzazione della nuova rotatoria, quella all'innesto tra la Statale 16 e Via Napoli. È pronta la convenzione con l'ANAS, dunque ci siamo. Sì, assolutamente è un'opera importante per Tortoreto che rientra in quel progetto europeo della diminuzione delle emissioni, quel famoso 20-20-20 del patto dei sindaci. Quindi dopo tanto soffrire sulla realizzazione del progetto, perché nella precedente amministrazione a cui ho partecipato come Assessore, su un progetto preliminare abbiamo iniziato a ragionare. È chiaro che poi c'è stata tutta un'involuzione fino al definitivo e finalmente siamo in dirittura d'arrivo. Finalmente questa convenzione con l'ANAS è stata rinviata un paio di volte perché l'ANAS aveva fatto qualche piccola prescrizione, finalmente definitivo convenzione. Quindi diciamo abbiamo fatto già la gara d'appalto, c'è un vincitore, una ditta, mi fa piacere anche perché è una ditta tortoretana. I tempi tecnici per la realizzazione dell'opera. Nella convenzione sono stabilite probabilmente una tempistica che ve le siete date anche voi, insomma, no? Sì, i tempi di realizzazione sono 80 giorni. Quindi questo è stato scritto sulla gara. Penso che la ditta sia seria e che quindi i tempi vengano assolutamente rispettati. Quindi è un'opera essenziale. Voglio ricordare che questa realizzazione per quanto riguarda l'aspetto finanziario la regione ha finanziato con 120 mila euro, con fondi ambientali. Voglio ricordarlo anche perché la mia delega nella precedente amministrazione era l'ambiente. Ho lavorato benissimo con il vecchio assessore, con il precedente assessore, diciamo, all'ambiente Mauro di Dalmazio, che voglio ringraziare pubblicamente perché si è impegnato veramente tanto e ci ha accordato insieme a tutto il Consiglio regionale questo finanziamento. Noi metteremo la restante parte per raggiungere una cifra che si aggira intorno ai 300 mila euro.